L'ippopotamo è quello che mi dico, e neanche quello che mi bisogna avere paura. Ma se non vuoi, non vuoi. Non è buono l'ippopotamo, non devi invadere sul suo territorio. Quindi niente turisti, eh ragazzi. Ragazzi, vabbè, grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Molto interessante. Allora, il numero... Sì, ma non così. Numero 128, ragazzi. 128. Chi è quest'uomo fortunato, ragazzi? Ciao, Nadine. Eccolo qua. Eccolo. Ma qualche foto non riusciamo a fare? Sì, perché no? Ecco, 128. Non riesco a fare anche la foto. Come ti chiamo? Si chiama Roberto. Allora, vieni Roberto. Viene da Torino. Viene da Torino.